I primi segnali di disgelo tra Matteo Renzi e Vincenzo De Luca dopo la clamorosa rottura successiva alla batosta rimediata in occasione del referendum costituzionale nel corso della direzione nazionale del Partito Democratico si sono registrati importanti e tangibili segnali di riavvicinamento tra l'ex premier, l'attuale segretario nazionale del partito e il governatore della regione campana. Dopo settimane di accuse neanche tanto velate, di assoluta e totale freddezza dei rapporti fino a qualche tempo fa cordialissimi, ieri sono arrivate aperture reciproche. Prima è stato De Luca a ribadire lealtà al segretario nazionale, poi è stato Renzi a citare il governatore campano nell'intervento conclusivo lasciando intendere di aver apprezzato l'intervento. C'è di fondo una necessità reciproca di superare la freddezza e gli screzi successivi al referendum. Rezzi ha bisogno di De Luca e della campagna per evitare che Michele Emiliano, governatore della Puglia, possa qualizzare intorno a sé un'area troppo vasta di consensi istituzionali al sud. Mentre De Luca ha bisogno di un governo amico per rilanciare la sua azione di governo sul territorio. Piano rifiuti, piano assestamento del bilancio in campagna, la nuova legge che consentirebbe a De Luca di diventare commissario alla sanità e ancora il piano per il lavoro. Promesse fatte da Renzi a De Luca ma rimaste tali solo sulla carta dopo il patatrack registrato in occasione del referendum. Ora la situazione è cambiata radicalmente con la scelta di andare a congresso. De Luca in campagna ha scelto di nuovo l'alleanza con l'area renziana maggioritaria che fa capo a Mario Casillo. Mentre Renzi, da parte sua come detto, ha bisogno di evitare un'alleanza del PD meridionale intorno ad Emiliano. Insomma potranno anche non piacersi, forse anche per ragioni anagrafiche e generazionali, ma Renzi e De Luca hanno tremendamente bisogno l'uno dell'altro.